Allora, innanzitutto, buona Pasqua a tutti, per chi la festeggia e anche per chi non la festeggia. Cominciamo con queste care video lezioni sulla materia di oculistica, quindi testa a collo. Io ho cominciato a studiare oculistica, ho fatto i primi capitoli, ho fatto le mie sintesi e adesso cominciamo a parlare di due argomenti importanti, importanti, ovvero quelli che sono gli aspetti dell'embriologia e poi quelli che sono gli aspetti della cara anatomia. Cominciamo dall'embriologia, ovviamente l'embriologia ragazzi non saranno quei richiami così preziosi come nella materia di embriologia, anche se in realtà per capirla va bene, ho dovuto prendere il carinci o il barbieri per rivedere alcuni concetti. Allora, in primis noi a livello embriologico abbiamo tre importanti fasi, abbiamo la fase dell'embriogenesi, abbiamo la fase dell'organogenesi, abbiamo la fase della differenziazione. Durante l'embriogenesi noi vediamo che ci sono quattro settimane, ci sono gli sviluppi, lo sviluppo durante queste quattro settimane, nelle prime tre settimane di gestazione si vengono a formare quelli che sono gli strati primari. Da questi strati primari, che sono aggregati di diverse cellule con una determinata potenzialità proliferativa e differenziativa, origineranno quelle che sono la morula, la blastula e la gastrula. Fondamentalmente cosa succede? che la gastrula, ragazzi, andrà incontro a un processo di invaginazione, quindi da quello che è un cerchio si invaginerà una porzione, e questa invaginazione con differenziazione determinerà la formazione di diversi strati. Avremo quello che è l'arc canteron, ovvero l'intestino primitivo, circondato dall'endoderma, poi c'è il celoma, la cavità celomatica, e infine l'ectoderma. Le cellule dell'ectoderma a un certo punto formeranno quella che è una stria primitiva, all'interno del quale migreranno, quindi questa stria primitiva permette a queste cellule di spostarsi all'interno di questo strato, determinando la formazione di un secondo strato intermedio tra ectoderma ed endoderma, che prende il nome di mesoderma, che è fondamentale poi per quelli che sono i muscoli extraoculari, la sclera, i vasi sanguigni, ma ci arriveremo dopo con calma. Fondamentalmente il mesoderma, ok, l'ectoderma che altro fa? L'ectoderma ragazzi è fondamentale per lo sviluppo sia del corpo ciliare che dell'iride che dei muscoli oculari interni, l'ectoderma di rivestimento darà origine al cristallino, però se parliamo così non ci capiamo, nel senso che io cercherò di aiutarvi passo passo per farvi capire il tutto. Quello che vi voglio far capire, ora come ora abbiamo questi tre strati, è l'ectoderma cosa fa? Fondamentalmente la porzione anteriore di questa stria primitiva, ok, la porzione anteriore, si differenzia e prende il nome di neuroectoderma. Fondamentalmente le cellule si compartimentano rispetto all'ectoderma circostante che è quello di rivestimento e daranno origine a questo neuroectoderma che darà a sua volta origine al tubo e alla cresta neurale. Dal tubo per esempio noi avremo la retina, dalla cresta neurale avremo le cellule mesenchimali le quali daranno origine a quello che è lo strato vascolare che riveste l'occhio, la coroide. Fondamentalmente quindi con questa evoluzione dell'embriogenesi, verso la fine dell'embriogenesi cosa succede? Che l'estremità craniale di questo tubo neurale darà origine al proencefalo, quindi l'encefalo anteriore che differenzierà poi in teleencefalo e diencefalo, al mesencefalo che è la porzione mediana intermedia e il rombencefalo che è la porzione posteriore. A livello del teleencefalo e del diencefalo origineranno quelli che sono dei primordi ottici, delle fossette ottiche, quindi si stanno iniziando a localizzare quelle che, a manifestare quelle che sono appunto le regioni anatomiche che verranno deputate appunto alla formazione del bulbo oculare, della cavità oculare. Comincia quindi questa cara organogenesi, sono passate più di tre settimane di gestazione, fondamentalmente cosa succede? Quindi voi vi immaginate sta roba così, ok? Lo strato intermedio, lo strato inferiore è l'endoderma, ok? Qui abbiamo un puntino che è la cara notocorda, superiormente abbiamo il tubo neurale, al di sopra del tubo neurale abbiamo quell'ectoderma di rivestimento, ok? Fondamentalmente cosa succede nel tubo neurale? Nella porzione anteriore terminale ci sono delle care estroflessioni bilaterali, quindi da questo tubo neurale si producono queste estroflessioni, ok? Voi immaginatelo così, il tubo neurale qui sopra sta l'ectoderma di rivestimento, qui sta fondamentalmente l'endoderma, dalla porzione superiore si iniziano a formare delle estroflessioni. Queste estroflessioni permettono l'unione fondamentalmente il collegamento con il caro di encefalo, queste estroflessioni prenderanno il nome di peduncoli ottici, ok? I peduncoli ottici connetteranno il caro di encefalo alle future cavità oculari. Questi peduncoli si formano perché fondamentalmente quelle che erano i primodi ottici, quelle vescicole ottiche, migrano verso l'ectoderma di rivestimento trascinandosi una porzione del di encefalo che li tiene collegate a quest'ultimo, che sono appunto i peduncoli ottici. Bene, queste vescicole ottiche, che originano da quelli che erano le fossette ottiche, i primodi, queste vescicole ottiche sono fondamentali. Cosa succede quindi noi? Quindi noi qua che cosa avremo di particolare? Cosa succede? Fondamentalmente succede questo, che noi avremo il mesenchima interposto, ok? Il mesenchima ragazzi è fondamentalmente quello che viene fuori dalla cresta neurale, che sta attorno al tubo, al tubo neurale e si interpone tra quest'ultimo e l'ectoderma di superficie. Quel mesenchima è importante perché poi differenzierà. Continuando quindi, a livello del prosencefalo, che diventerà telencefalo di encefalo, stanno questi peduncoli ottici, abbiamo queste vescicole ottiche, ok? Queste vescicole ottiche separate dallo strato di mesenchima, da quello che è la porzione esterna di rivestimento dell'ectoderma, ma quest'ultimo darà origine a quello che è il placode, l'entigeno, intorno al trentesimo giorno. Fondamentalmente l'ectoderma di rivestimento si inspessisce, darà origine, questo poi nel tempo, al cristallino. Durante la quarta settimana le pareti esterne di quelle che sono le vescicole ottiche iniziano a invaginarsi, quindi quelle che sono quelle palline, ok? Si iniziano a invaginare e a formare quello che è il cosiddetto calice ottico a doppio strato. Immaginatelo come un orecchio, la stessa cosa, la porzione invaginata, che è quella più esterna, e quella più interna, che è la semisfera. L'altra semisfera è schiacciata verso dentro, no? E quindi si dice a doppio strato perché c'è uno strato interno e uno strato esterno, ok? Bene. Non basta soltanto questo. Quello che era il placode cristallino, anche lui sulla porzione centrale inizia a invaginarsi e darà origine a quella che è la fossetta del cristallino, ok? Fondamentalmente questo calice ottico inizia a differenziarsi passo passo. Cosa notiamo di questo calice ottico? Notiamo che questo calice ottico è collegato al peduncolo ottico e in quel punto in cui viene il contatto col peduncolo ottico, ok, si viene a formare una fessura. Fondamentalmente quella è definita fessura fetale, ok? E prenderà poi il nome di fessura corioidea perché darà origine anche allo strato corioideo. Fondamentalmente nel solco, scusatemi, un attimo solo, ho attivato per sbaglio l'allenamento. Diciamo che in questo solco ci sono delle cellule che sono del mesoderma, quindi interposte tra quello che è l'endoderma e quello che è l'ectoderma, che si differenziano in quelli che saranno i cari vasi yaloidei e l'arteria poi centrale retinica, anche se poi l'arteria centrale retinica originerà successivamente dall'arteria yaloidea, perché prima era l'arteria yaloidea. Questi vasi yaloidei sono sia le arterie che le vene. L'arteria yaloidea origina dall'arteria oftalmica. Lo sviluppo della vascularizzazione oculare lo vedremo passo passo dopo. Quindi questa fessura fetale è importante a questo punto di vista. Continuando con questa cara differenziazione, quella che era fondamentalmente la fossetta del cristallino, ok? Cosa succede? Che il placode lentigeno va incontro a un'invaginazione, si tira ancora più dentro, si viene a formare quella che è la vescicola del cristallino e quello che è il placode poi sarà quella che è la futura cornea. Intanto quello che è il calice ottico a doppio strato, cosa succede? Fondamentalmente si inizia a formare uno strato interno che darà origine a quella che è la porzione del calice ottico interno, darà origine poi alla retina, e quello che è la porzione esterna che darà origine allo strato pigmentoso della retina, perché ci sono due strati, quello nervoso e quello pigmentoso. Fondamentalmente lo strato esterno darà origine allo strato pigmentoso retinico, ok? Quello che vi voglio far capire è che questi due strati, stia quello interno retinico, che è lo strato più interno ancora, ok? Che poi darà origine fondamentalmente alla sclera e si vedrà, non sono completamente adesi collegati, per questo un grosso trauma può distaccare la retina, perché non è completamente incollata, ok? La fessura che era fetale corioidea prenderà il nome di fessura corioidea slash fessura retinica, quest'ultima fondamentalmente che fa? Quest'ultima verso la quinta settima settimana di gestazione va in contra chiusura e il mesoderma fondamentalmente da cui origineranno queste cellule di questa fessura, differenze in componenti che sono orbitali e vascolari. All'ottava settimana si ha quella che è la terza fase, la differenziazione, ovvero le componenti del bulbo, la maturazione avanzata anatomo funzionale, la vescicoa del cristallino che si richiude in se stessa, non è più invaginata, ma si separa dall'ectoderma superficiale, quindi si verrà a formare quella che sarà la futura camera anteriore. Il caro cristallino però non sprofonda nella cavità del calice ottico, perché sprofondare significa che abbiamo poi un problema nel vedere il tutto, ma c'è una cara sostanza gelatinosa che originerà da quel mesenchima che vi avevo detto prima che era interposto tra il calice ottico, tra il cristallino e l'ectoderma superficiale, che darà origine a quello strato gelatinoso che è l'humor vitreo. Ok, per quella per esempio che è la macula, che è la porzione più nobile della retina, per esempio vi dico che continuerà il suo sviluppo e la sua differenziazione anche dopo la nascita. Parliamo adesso passo passo dello sviluppo poi delle varie porzioni, questo per darvi un attimo l'assetto che ha preso l'occhio. Continuando. Lo sviluppo della cornea, della sclera, della coroide, parliamo passo passo. La cornea ragazzi è lo strato più superficiale, no? La cornea dovrebbe originare da quello che era il placode del cristallino, no? Fondamentalmente ectoderma superficiale di rivestimento. Fondamentalmente si inizia a differenziare da queste cellule che si trovano nell'ectoderma, ok? E si verranno a formare fondamentalmente degli strati fondamentali, no? Avremo degli strati, uno strato più interno, ok? Fondamentalmente che è la sclera e poi avremo uno strato più vascolare, no? La cosiddetta tonaca vascolare che è la coroide che circonderà anche il cristallino. Questi strati verranno separati poi alla settima settimana da quella che è la camera anteriore, una camera primitiva, ok? Quindi cosa noi ci troviamo dall'esterno verso l'interno? Quella che è una cornea primitiva, quelle che sono le cellule specializzate della cornea, quindi lo strato fondamentalmente vascolare, endoteliale, la camera anteriore, poi avremo la formazione del muscolo papillare, questo muscolo papillare poi andrà incontro a una fessurazione che darà origine alla papilla verso il terzo trimestre, la camera posteriore, il cristallino e quant'altro. Fondamentalmente la cornea, inizialmente presenta tre strati, poi piano piano si sviluppa sempre di più fino a diventare la cosiddetta cornea definitiva. Avremo il primo strato che è l'epitelio corneale, formato dalle cellule della cresta neurale, poi avremo la membrana di Bowman, poi lo strato mesenchimale stromale, poi avremo la membrana di Dejmet e infine la porzione vascolare della cornea, ok? È dimostrato come l'azione degli ormoni tiroidei, la tiroxina, permetta uno sviluppo poi di questo strato stromale che abbiamo al terzo strato della cornea che permetterà poi una trasmissibilità della luce maggiore, inizialmente solo il 30% veniva trasmessa fino al 100%. Parlando di sclere coroide, qua il discorso è un po' più complesso, quindi per la cornea avete capito che lo strato più interno si sviluppa, si differenzia, circonderà anche il cristallino, prima ho sbagliato a parlarvi di coroide e di sclera, scusatemi. La sclera e la coroide originano da dove? Dall'ectomesenchima, fondamentalmente dalle creste neurali, circondano sia il peduncolo sia le vescicole ottiche che diventeranno i calici ottici. Fondamentalmente nell'encefalo questo mesenchima darà origine alla pia madre, all'aracnoide, mentre il mesenchima soprastante fondamentalmente mesodermico, quindi non è un ectomesenchima la dura madre, la dura madre è un ectomesoderma, scusatemi, è un mesenchima del mesoderma, invece il mesenchima dell'ectoderma darà origine alla pia madre aracnoide. Queste che sono le vere meningi, poi abbiamo le pseudomeningi fondamentalmente, quelle che sono la sclera e la coroide, pseudo perché non hanno liquor, fondamentalmente abbiamo questi due strati, lo strato esterno che è la sclera, poi successivamente avremo la pia madre, l'aracnoide e quant'altro, no? E poi abbiamo lo strato interno che invece è la coroide. La coroide è altamente vascolarizzata da quelle che sono le arterie ciliari e le vere vortipose. Parliamo adesso dello sviluppo del cristallino, quindi sclera, coroide l'abbiamo capito, lo sviluppo della cornea l'abbiamo capito. Parliamo del cristallino, fondamentalmente il cristallino originava dal placode del cristallino, il placode ottico, il quale invaginandosi, richiudendosi in se stesso, dava origine alla fossetta del cristallino e poi alla vescicola del cristallino. La vescicola del cristallino dà origine a una sfera, fondamentalmente in questa sfera noi abbiamo due emisferi, in questi due emisferi noi troveremo una porzione che è più esterna, quindi rivolta verso l'esterno, quindi anteriore, e una porzione più interna rivolta posteriormente, quindi detta posteriore, separata entrambe da una zona equatoriale. Inizialmente questa zona equatoriale era una piccola cavità, ma poi si richiuderà del tutto. Fondamentalmente cosa succede? Che qui arriverà uno sviluppo particolare nel cristallino di quelle che da questa fossetta sulla zona equatoriale originano delle fibre primarie, queste fibre primarie attorno a un nucleo centrale tra la quinta e la settima settimana iniziano a svilupparsi, ok? Le fibre secondarie invece crescono e mantengono la loro potenzialità staminale rispetto alle fibre primitive, primarie, e sono responsabili dell'aumento del volume del cristallino. Le fibre primarie si differenziano in fibre allungate e trasparenti, sintetizzano le cosiddette cristalline alfa, beta e gamma responsabili della trasparenza, influenzando in qualche maniera anche il posizionamento all'interno delle cellule. Mentre queste cellule si allungano, perdono il nucleo e quindi perdono quella capacità proliferativa, di conseguenza le porzioni anteriori del cristallino fibre primitive. Le porzioni invece posteriori differenziano in un numero finito di cellule embrionali differenziate, ok? Che sono le fibre secondarie, mantengono la loro capacità staminale e poi determinano anche delle suture cristalline perché si rifondono in questa maniera, capito? In cerchi concentrici fino a dare la forma proprio del cristallino. E niente, quindi abbiamo capito anche la formazione del cristallino. Parliamo adesso del caro corpo vitreo, fondamentalmente ragazzi tra il cristallino e il calice ottico si interpone l'umor vitreo che si era formato dall'ectoderma ma in realtà più dal mesenchima, tiene questi elementi appunto mesenchimali, questi da dove originano? dall'arteria ialoidea, da quella che era la fessura retinica coroidea e vanno a formare una zona pericristallina per cui non ti crolla il cristallino all'interno della camera, fondamentalmente primitiva oculare. Cosa succede? Succede uno sviluppo, ovvero si viene a formare quello che il corpo vitreo, ma come? La cara arteria ialoidea, arteria che origina, non me lo ricordavo, dalla fessura corioidea che è una branca dell'arteria oftalmica e darà origine poi all'arteria retinica centrale, comunque, quest'ultima si inserisce all'interno del vitreo e darà origine a quello che è il vitreo primitivo, ok? In realtà all'interno di questo morvitreo ci sarà anche una zona di condensazione da cui originerà poi, perché passa all'interno di questo morvitreo e si forma un canale, questo canale di cloquet, questo canale andrà in conto poi a condensazione, sarà proprio un canale da cui passava precedentemente l'arteria ialoidea. Parlo al passato perché? Perché il corpo vitreo primitivo si differenzia in corpo vitreo definitivo avascolare secondario, avviene di conseguenza la retrazione dell'arteria ialoidea, la compattazione, no? Lungo i bordi del corpo vitreo secondario si creerà quello che è il corpo vitreo terziario, si verrà a formare pure la zonula del cristallino che è una zona particolare dove fondamentalmente si andranno a inserire i processi ciliari, l'anello di Zin che è responsabile della sospensione del cristallino. Dopo che abbiamo parlato di questa bellissima cosa, parliamo dello sviluppo della retina. Fondamentalmente noi nella retina abbiamo visto quello che era uno strato pigmentato e quello che era uno strato nervoso. Avremo quindi una porzione interna e una porzione esterna, ok? Adesso di solito la porzione esterna si tratta di uno strato mono, di un monostrato, ok? Ed è caratterizzato dal fatto che quelle sono cellule melanocitiche, ok? Saranno responsabili della futura pigmentazione retinica blu-astra, ok? Poi vedremo i colori che stanno all'interno dell'iride perché nell'iride noi abbiamo la porzione iridea retinica che dà il colore blu-astro ma la nostra iride poi si colora per i depositi pigmentati nella porzione più esterna del corpo irideo che vi descriverò dopo perché l'iride sono come due dita che si frappongono tra il cristallino e la camera anteriore, la porzione più esterna è quella appunto che prende il colore maggiore, la porzione interna è quella in parte anche retinica che dà questo colore blu-astro. La cosa interessante qual è? Siccome le cellule di questo monostrato non hanno capacità migrante, non si staccano, non differenziano i neuroblasti in cellule nervose, non avremo un'attività nervosa, invece questo succede nello strato interno, ok? Di conseguenza noi quando parleremo della cara retina parleremo di una parte visiva e da una parte cieca. La parte cieca è proprio quella porzione iridea retinica ma non solo, anche la porzione ciliare, cioè della retina che forma anche il corpo ciliare, ok? Di solito il rapporto è questo fondamentalmente abbiamo diversi strati retinici che poi permetteranno lo sviluppo attraverso i neuroblasti che migrano ai vari strati retinici. E quali sono questi strati retinici? Fondamentalmente noi avremo lo strato delle cellule pigmentate, poi avremo gli strati retinici, coni e bastoncelli, membrana limitante esterna, strato nucleare esterno, stato nucleare interno, strato gangliare, fibre del nervo ottico e membrana limitante interna. I fotorecettori, quindi coni e bastoncelli, originano dalle cellule degli ependimociti, ok? Per quello che riguarda invece i neuroni gangliari che stanno nello strato gangliare subito dopo le fibre del nervo ottico, poiché i loro assoni daranno origine al nervo ottico, ok? Mentre il loro soma, il loro corpo, darà origine allo strato gangliare profondo, ok? Ovviamente ci sono poi delle connessioni tra questi strati, ragazzi, che permettono cross stimolazioni, avremo delle connessioni verticali e delle connessioni orizzontali. Ok, va bene. Dopo aver parlato dello sviluppo della retina accenniamo a quello che è lo sviluppo del nervo ottico, le fibre che si vengono a formare appunto dagli assoni delle cellule gangliari, queste migrano verso il sistema nervoso andando ad obliterare quello che è il lume del peduncolo ottico. All'interno di questo lume passeranno le fibre, così come l'arterio e la vena di aloidea, ok? E di conseguenza poi queste fibre saranno quindi in rapporto con le medesime, con il fascio vascolo nervoso, ok? Dopodiché non abbiamo ancora finito, ma veramente per capire bene qua ragazzi ci vuole tanta anatomia, quindi aiutatevi con le figure, con le immagini che uno ha a disposizione sui libri, perché sulle sbobine uno neanche te le stampa queste cose. Parliamo dello sviluppo dell'iride del corpo ciliare. Allora, queste qui, a queste porzioni appartiene la parscecaritine, ok? Che darà origine in parte al corpo ciliare e in parte all'iride. Entrambi sono anelli concentrici, fondamentalmente attorno alla zona equatoriale cristallina, che permettono di ancorarsi in qualche maniera. Ora, più specificatamente, l'iride è un diaframma pre-cristallino, si trova davanti al cristallino, è un'apertura che la pupilla, ok? La base di questa iride, la porzione posteriore, origina dalla retina, è un epitelio in colore e un epitelio pigmentato. Quello in colore poi maturerà, quello pigmentato e quello retinico. Il colore, per esempio, bluastro dei bambini è per la pigmentazione intrinseca della retina. Poi migrano dallo stroma della cara coroide, che è lo strato vascolare, perché noi abbiamo sclera, coroide, retina, ok? Dalla coroide va alla retina, dalla retina va allo strato poi esterno dell'iride, la colorazione delle cellule melanocitiche tra i sei e dieci mesi di vita. Dopodiché noi abbiamo il corpo ciliare. Il corpo ciliare ha una base rapportata con la retina, è uno stroma che origina dalla coroide, dal mesenchima. Qui ci sono fibre muscolari lisce che daranno origine al muscolo ciliare, che in qualche maniera cambia quella che è la forma del cristallino, che poi è un ente diffrattivo importante nel riflesso fondamentalmente accomodativo, ok? La base, quindi retinica del corpo ciliare, si eccerna a quello che è l'umoracqueo, ok? Il lumoracqueo è importante perché nutre la cornea e il cristallino, è simile al liquor. Poi chiaramente l'umoracqueo dà la camera posteriore, si porterà alla camera anteriore, poi dalla camera anteriore andrà nei canali di scellen, poi nelle varie vene, arterie e così via verrà drenato via, ok? Abbiamo parlato anche di questo. Parlando degli annessi oculari qua veramente parliamo molto molto rapidamente. Noi avremo lo sviluppo di quelle che sono gli annessi oculari principali e quali sono questi? Questi sono fondamentalmente l'apparato protettivo dell'occhio, ne parleremo dopo. Per esempio parlando per le palpebre, le palpebre voi dovete sapere che intorno al settimo mese andranno incontro, scusate mi ho fatto una pausa, dicevo che verso il settimo mese ci sarà la riapertura poi delle palpebre nel loro margini libero che inizialmente è fuso. Poi avremo la formazione delle varie ghiandole sebacee speciali, accessorie delle ghiandole lacrimali principali, accessorie delle ciglia sul bordo del margine libero palpebrale, avremo lo sviluppo di quello che è il sacco congiuntivale ma questo ne parleremo dopo con più calma. Cosa manca? Cosa è rimasto di così importante? La vascolarizzazione. I vasi originano dalla fessura corioidea e errorano le pareti del calice ottico, all'interno poi vanno nel corpo vitreo, faranno una rete di vascolarizzazione importante sia per la retina che per il cristallino. Dopodiché verso la quinta settima settimana i bordi della fessura corioidea si chiudono. Cosa succede? Che questa fessura darà origine a un lume, il lume all'interno del peduncolo dove passerà il nervo ottico, i vasi aloidei, arterie, bene che sia. Durante la vita fetale il cristallino è nutrito dall'umor vitreo e dall'umor aqueo e i vasi afferenti si atrofizzano fino a scomparire a fine gravidanza. Ci possono essere dei residui del cosiddetto canale aloideo all'interno dell'umor vitreo che invece di condensare rimane. Ok? Ci possono essere poi dei vasi in rapporto con la retina che da arterie aloidee poi si differenzieranno in quelle che sono le arterie centrali retiniche e vene centrali retiniche. Quali sono le fasi dell'embriogenesi vascolare? Noi abbiamo quella che è la carotide interna, questo dà un ramo particolare. Il ramo darà origine a quella che è l'arteria stapediale. L'arteria stapediale fondamentalmente è responsabile di quella che è l'irrorazione del... scusatemi che non scrive... l'arteria stapediale va ad irrorare i vari tessuti orbitali origine dalla fessura retinica. Così come noi abbiamo l'arteria stapediale abbiamo anche il plesso capillare. Fondamentalmente sulla faccia dorsale del calice ottico, quindi quella più interna, si viene a formare quella che è l'arteria oftalmica dorsale. Darà origine all'arteria ialoidea, arriverà al cristallino e formerà i cosiddetti plessi anulari. Questi plessi si vengono a rapportare con quella che è la tonaca vascolare del cristallino che voi ben sapete origina dalla cornea, lo strato più interno, nella zona pericristallina. Così come noi abbiamo l'arteria oftalmica dorsale, noi avremo anche un'arteria oftalmica ventrale per la faccia mediale, quindi non dorsale ma ventrale in qualche maniera, non mediale ma ventrale, del calice ottico. Verso la sesta settimana l'arteria oftalmica dorsale diventerà arteria oftalmica definitiva, mentre l'arteria oftalmica, ventrale regredirà. Ne rimarrà soltanto un residuo che è l'arteria nasale ciliare posteriore. L'arteria oftalmica definitiva formerà dei rami, il primo sarà l'arteria centrale retinica, poi l'arteria ciliare posteriore lunga temporale e l'arteria ciliare posteriore breve. L'arteria ialoidea, ragazzi, invece, che darà origine alla forma retinica centrale, si fonderà poi con l'arteria del plesso peripapillare, quello periferico della retina. E sì, perché l'arteria oftalmica dorsale darà un ramo di arteria ialoidea e poi i vari rami della centrale retinica. La centrale retinica si fonderà con le arterie peripapillari. La tonaca vascolare poi del cristallino verso il terzo mese si atrofizzerà e scomparirà, può rimanere in alcuni adulti una membrana pupillare persistente che è la porzione vascolare pericristallinica. Ok, per quello che riguarda invece il sistema venoso, qua avremo un drenaggio sovra e sotto orbitario, che si dice sovra e infra orbitario, che circondano la vescicola ottica e il calice ottico, fondamentalmente questo. Quindi con questo, ragazzi, ho detto tutto quello che c'è dietro l'embriologia dello sviluppo dell'occhio. Ci vediamo per la prossima video lezione, per non farla troppo lunga, anche per non aspettare troppo che si carichi, su quella che è l'anatomia.